Nonostante lo scetticismo della comunità scientifica, il protocollo Zamboni è negli ultimi mesi salito alla ribalta. Il professor Zamboni dell'Università di Ferrara avrebbe individuato la connessione tra l'insufficienza venosa cronica a cerebro spinale e la sclerosi multipla. Il protocollo ha ricevuto il via libera del Ministero della Salute e l'accreditamento al Servizio Sanitario Nazionale. Molte regioni ne stanno avviando la sperimentazione, ma tra queste non la Basilicata, almeno per il momento. A sollevare l'attenzione del Consiglio regionale sul punto, il capogruppo del Movimento per le Autonomie e Mollica, che dopo la cauta risposta dell'assessore alla sanità Martorano, lo ha sollecitato ad intervenire affinché i lucani colpiti da sclerosi non siano costretti a recarsi nelle vicine Campania e Puglia o in altri paesi europei, dove la sperimentazione già avviata e le cure arriverebbero a costare anche 50.000 euro. E se con l'esperienza del metodo di Bella in oncologia la massima cautela è d'obbligo, per Mollica sperare non costa nulla.